Ora voltiamo pagina e dopo aver visto questa BMW i3 vediamo le sportive, Le Mans il cortometraggio che ha fatto Toyota per celebrare questa famosa gara di 24 ore con la quale la cassa giapponese come dicevo corre con una vettura ibrida. Dopo dieci settimane di stop, domenica primo settembre 2013 si disputerà sul circuito di Interlagos in Brasile le sei ore di San Paolo. Gara valida per il campionato FIA World Endline. Nella passata stagione 2012, questo circuito è stato teatro della prima vittoria del mondo. del team Toyota Racing grazie alla supera prestazione della squadra e alla guida perfetta di Alex Wurtz e Nicolas Lapierre. At Le Mans, hybrid technology ha fatto avuto. Non c'è più facile da questa gara senza hybrid. È l'extra power boost che rende la hybrid l'ultima macchina. Le prossime 24 ore sono la culminazione di un anno di lavoro difficile. Abbiamo fatto un po' di secondi più veloce sul Le Mans, soldi d'Audi. Quest'anno il team Toyota Racing arriverà in Brasile con l'equipaggio numero 8 composto da Anthony Davidson, Sebastien Buoni e Stéphane Saracen ed una giornata TS030 hybrid. L'obiettivo sarà sempre lo stesso, correre per la victoria. La prima volta della gara di Interlagos, vogliamo farvi vivere, in un cortometraggio, l'ultima eccitante ed indimenticabile edizione delle 24 ore di Le Mans. Non ci saranno da guardare solo le fasi della gara che hanno portato la TS030 Hybrid numero 8 ad eguagliare il miglior risultato di Toyota alle 24 ore di Le Mans. Era il 1992, con un secondo posto ottenuto dopo una cesa battaglia per la vittoria. Lo staff incaricato delle riprese ha infatti avuto la possibilità di entrare in stretto contatto con il team Toyota Racing, immortalando la leggenda di Le Mans e del turbinio di emozioni che è in grado di suscitare. Significativo il commento di Alex Burke riguardo la gara. Non c'è più possibilità di vincere questa competizione senza la propulsione idrida. La notte. Questa è la volta che la tracca vuole capire cosa sei fatto. Quindi questa è la parte più difficile per me in Le Mans, per andare a capire la scurità e vedere il sole di riuscire il prossimo giorno. La tracca vuole capire cosa sei fatto. La tracca vuole capire cosa sei fatto. Perché, se fosse freddo, è un senso di horror. Ma che si tracca vuole capire cosa sei fatto. and talented. Are you strong enough? Is your team watching your back? Can you rise above yourself? Will you continue on no matter what? Will you defy the elements? He's been caught out by the rain. Even the world's best. Here he is, and he has a wobble and bang into the tarmac. I'll tell you what, take my hat off to these TTE mechanics. They've put two new corners on it and he hasn't lost position. Twelve months of hard work. 24 hours of tension, of passion, of teamwork, all the pain, all the joy, all culminate at this very moment. car number two, followed by the Toyota, and they're coming up to cross the line, and a huge chill. Well done. Well done, everyone. This year, our passion and our ceaseless struggle to become ever better and to never rest has made us shine. When it comes to challenging this track, hybrid technology has proven to be a powerful ally. Yes, we will be back. I'm sure my time will come and I'm sure the team's time will come as well. In this way we will stop for a few seconds of publicity. We will be back in a few seconds with the solar cars, with the test of the scooter LEM that we did with David Fortini and this will be back in a few seconds. A tra poco.